Mi piace questa passeggiata di fianco al torrente Boesio. Qua c'è la pista ciclabile. L'avevo fatta anche quest'estate, era un altro clima. Comunque è bello anche il periodo invernale, ha la sua atmosfera nei rami secchi e così. Devo dire che mi sto incamminando verso l'ospedale di Cittiglio. Bello. Guardo la montagna là sovrastante. Si arriva con la bidonvia e in questo periodo non si buttano i deltaplani. Però mi ricordo quando c'era proprio l'atterraggio qui, avanti 200 metri, di queste persone che si buttano nel vuoto, che volano. È un'emozione unica. Sono qui in questo momento, anche con le montagne circostanti un po' imbiancate. Però c'è un clima eccezionale, è una temperatura di 10 gradi che non fa freddo. Si sta veramente bene di fianco a questo torrente. Ecco la pista ciclabile che faccio 4 chilometri per raggiungere Cittiglio. Oggi tutto bene, tutto bene. Mi trovo in un ambiente familiare dove conosco tante persone e poi conosco anche bene il paese di Laveno, nonostante che non sia stato un progresso eccessivo. Ma non conta quello, conta le persone che si incontrano in quel paese. Anche sopra una montagna di pietra può nascere l'amore. Ci sono tante emozioni che determinano la visualizzazione dell'aspetto esterno della natura. Può piacere anche un luogo che non è bello, ma l'importante è che sia caro e familiare. Aldo.